C'è un diario che seguirà di pari passo il nostro disco nei vari studi e siamo oggi in diretta dalle officine meccaniche, loro hanno appena fatto basso e batteria Provi ragazzi! Mi raccomando iscrivetevi sul nostro canale YouTube, mi raccomando è importante E aggiorniamo il lavoro, poco alla volta vi facciamo vedere un po' come nasce il disco un pezzettino piccolo che poi rifaremo, l'abbiamo già fatto e guardatelo qui Tu avrai tra le dita il meglio e un soffio in mezzo al tuo deserto Credimi ti passerà il tempo in fondo medica Bisogna dire che questo era quello che abbiamo fatto fino adesso Ecco questo è quello che abbiamo fatto fino adesso Nella prossima puntata vi faremo vedere come abbiamo fatto a farlo e vi faremo vedere come nasce la mia differenza Bisognerebbe dirgli che li portiamo negli studi all'interno dello studio? Diciamoli che li portiamo negli studi Va bene, allora, vai partiamo Allora, vi porteremo all'interno? No, dobbiamo dire che loro arrivano da questo, hanno visto questo e nelle prossime puntate vi faremo vedere come abbiamo fatto a fare questo e ovviamente come faremo a fare l'altro pezzo del disco Vabbè, alla prossima puntata insomma Ecco, iscrivetevi ragazzi E non pesa un grammo in più